Musica ma la lindos mi piace il ruolo infatti ho provo dritta prima dritta no dai povero Gino vediamo la scelta no dai povero Gino 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 no no dai povero Gino 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 guardami, guardami che cosa che faccio bravo bravo ciao 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 Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero, 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 non è vero. 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 Bastard! madonna non è passata in ibrida vuoi vedere in quei scritti a la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.